Gesù si prende cura delle necessità degli uomini, ha compassione per i loro dolori, ma vuole anche rendere ognuno di noi concretamente partecipe della sua compassione. Lo ha detto Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, tenuta in un'aula Paolo VI riempita da più di 9.000 pellegrini, sul tema La Misericordia, strumento di comunione. Il Pontefice ha riflettuto sul miracolo della moltiplicazione dei pani. Gesù, dopo aver saputo della morte di Giovanni Battista, ha bisogno di un momento di solitudine, ma la folla, che prima seguiva il profeta, lo cerca per ascoltarlo e portargli malati. Così si commuove e si dedica alla gente, e vuole coinvolgere in questo i suoi discepoli, dicendo loro «Voi stessi date loro da mangiare, poi da loro i pani spezzati perché li portino alla folla». Nel far questo recita la benedizione, compiendo gli stessi segni dell'ultima cena, della comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo, ha chiarito allora Francesco, è perciò tutt'altro che rimanere passivi ed estranearsi dalla vita quotidiana, ma al contrario ci inserisce sempre più nella relazione con gli uomini e le donne del nostro tempo, per offrire loro il segno concreto della misericordia e dell'attenzione di Cristo. Gesù vuole raggiungere tutti, per portare a tutti l'amore di Dio. Per questo rende ogni credente servitore della misericordia. Così Gesù vede la folla, sente compassione, moltiplica i pani e lo stesso fa con l'Eucaristia. E noi credenti che riceviamo questo pane siamo spinti da Gesù a portare questo servizio agli altri con la stessa compassione di Gesù. Questo è il percorso. Al termine il Papa ha chiesto di pregare il Signore perché ognuno di noi possa essere strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro, nella parrocchia e nei gruppi di appartenenza, un segno visibile della misericordia di Dio che non vuole lasciare nessuno nella solitudine e nel bisogno.